Da ieri fino a domani, domenica 9 dicembre, al Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, nella Sala Favetta, in Via delle Caserme, dalle 16 alle 20 la tredicesima edizione del Pescara Abruzzo Wine, premio Vino e Cultura, città di Pescara 2018. Oltre 30 cantine viti vinicole abruzzesi partecipano alla manifestazione con i loro prodotti. Sarà il pubblico di Eno appassionati a decretare i migliori vini abruzzesi, divisi per categoria Trebbiano, Pecorino, Passerina, Coccocciola, Cerasuolo, Montepulciano Giovane, Montepulciano Riserva, Bollicine Classiche, Bollicine Autottone, Vino da Dessert. L'ingresso è gratuito, chi vorrà degustare i vini si dovrà semplicemente registrare e riceverà il bicchiere con una scheda di valutazione, che dovranno essere restituiti alla fine del percorso degustativo. Le schede saranno poste in un'urne e conteggiate al termine della manifestazione. Pescara Abruzzo Wine è attuata in collaborazione con l'Accademia Internazionale di Eno Gastronomi Sommelier con la Corporazione dei Saperi e Sapori. In tanti stanno partecipando a questo evento che unisce gusto a tradizione, storia e passione, poiché il vino racconta un intero territorio. È possibile degustare il nettare di bacco e decretarne quello che fa più al caso proprio per tutta la giornata di oggi e di domani, domenica, con un brandisi al Natale e all'anno che verrà.